Ad ogni azione corrisponde una reazione ma spesso le persone vengono bloccate dalla paura come delle pedine su una scacchiera state sceglierevole essere in un mondo pieno di regole dove i più forti sono quelli che le infrangono ma senza farsi notare più le mosse sono silenziose più i risultati saranno rumorosi quando ho iniziato da scappato e cacciato di casa in pochi sarebbero girati anche solo per salutarmi ma adesso che attraverso la strada scendendo dalle vostre auto vestito con un'altra giacca mi sento da molti rispettato e dagli stessi disprezzato aspettano il primo passo falso perché ad ogni passo falso una pedina viene mangiata per questo non corro i re si muovono con calma aspetto la battaglia tutto il resto è solo una stupida finzione la battaglia e la battaglia e la battaglia la battaglia è un'altra giuda Grazie a tutti.